Quindi qual è la ricetta? La ricetta è creare delle regole di trasparenza, innanzitutto è levare chi ha amministrato finora, perché è chiaro che chi ha amministrato finora non è in grado di farlo. Ora noi possiamo dare tutto il credito che vogliamo ed essere speranzosi, però credo che se per tre anni e mezzo, perché il governo regionale è in carica dal 2012, siamo ormai quasi nel 2016, siamo entrati nel quarto anno di legislatura, e mi sembra che abbia dimostrato ampiamente di non essere in grado di rispondere alle esigenze di questa regione. L'unica cosa buona che potrebbe fare il Partito Democratico in questo momento è staccare la spina a crocetta e portare i siciliani al voto, perché credo che i siciliani siano stanchi di vedere un governo che pensa soltanto a rimescolare assessorati e non produce niente di positivo. Tornando al discorso dei fondi, è chiaro, è palese che il nostro compito e il nostro impegno è quello di farli arrivare, ma da un altro punto di vista abbiamo bisogno di un governo efficiente che li faccia andare sul territorio per creare sviluppo distribuito. E questa è la ricetta di chi ovviamente sta all'opposizione in Italia. Io ripeto, io vorrei restare al governo domani mattina, metteteci alla prova, perché abbiamo le mani libere, siamo sicuri di poter amministrare questa regione come questa nazione in maniera completamente diversa di come lo è stato finora. Alcuni sondaggi...